L'odierna puntata di Speciale Polifemo è dedicata e incentrata sulla neonata associazione Grande Taranto. È stato eletto presidente Ugo Lomartire, che ho il piacere di avere qui accanto a me. Perché ricordiamo che Ugo Lomartire è stato presidente della circoscrizione Isola Porta Napoli di Taranto e poi consigliere comunale di Taranto. E' ora il presidente. L'associazione Grande Taranto è un'associazione politico-culturale, ma quali sono le ragioni della sua nascita? Le finalità sono quelle rispetto al fatto che la città di Taranto non è adeguatamente valorizzata, non è adeguatamente curata nella maniera migliore possibile. Ci sono diverse e tante situazioni di degrado che devono essere risolte sia per quello che riguarda la cittadinanza tarantina tutta, perché pagano le tasse i cittadini tarantini e hanno un diritto sacrosanto a vivere una città in condizioni ottimali, e sia per coloro che vengono da fuori. Inoltre, uno degli obiettivi dell'associazione è fare sì che ci sia una direzione inequivoca dal punto di vista turistico della nostra città. Perché dal punto di vista turistico la nostra città può dare tantissima occupazione a tanti disoccupati, a tante persone che non lavorano, può essere una vera ed è la vera risorsa economica per il nostro territorio, altro che quello che ci hanno raccontato per tanto tempo, la grande industria di qua e la grande industria di là. Noi basta che ci guardiamo attorno e vediamo una città dal punto di vista geografico, dal punto di vista storico veramente bellissima per quello che riguarda le spiagge, per quello che riguarda il mare, però non è per niente adeguatamente valorizzata, anzi è veramente penalizzata, perché noi non sentiamo parlare del nostro territorio, della città di Taranto a livello nazionale e a livello mondiale per quelle che sono le sue bellesse, ma ne sentiamo spesso e non volentieri parlare per quelli che sono i disastri che vengono combinati nel nostro territorio. Lo martire, abbiamo parlato di turismo, ma una delle finalità, lo abbiamo appreso dal comunicato, è quello della vivibilità urbana, ovviamente la vivibilità urbana è imprescindibile perché una città sia appetibile. Giustamente, noi pochissimi giorni fa siamo stati sul lungomare nel cuore del borgo di Taranto, nella discesa, dove abbiamo dato ampia dimostrazione in maniera inequivoca, in maniera chiara, la paliziana, di quello che è il degrado in cui si trova una delle parti centralissime del nostro territorio. Non sarebbe giustificato assolutamente, neanche se si trattasse di una delle parti più decentrate del nostro territorio. Ma lì guardiamo a uno dei territori, è una delle parti centrali, veramente centrali del nostro territorio, dove ci ritroviamo a dei mattoni che mancano, perché con l'andare del tempo i mattoni possono andare via, visto che risale a tantissimi anni fa la realizzazione di quel lungomare, dove ci ritroviamo con delle panchine che sono letteralmente inondate dalla terra che sta venendo giù, dove ci ritroviamo in una situazione scarsa dal punto di vista igienico, perché lo abbiamo dimostrato con le immagini, dove ci ritroviamo in una pista ciclabile la cui segnaletica è quasi del tutto venuta via, e tra le altre cose è tratteggiata nella parte del confine della pista ciclabile dove ci sono i cordoli degli alberi. Io non so come è possibile, perché dal punto di vista della sicurezza me lo domando, però se il tratto perimetrale della pista ciclabile, tra le altre cose, in buona parte è venuto via, se il tratto perimetrale della pista ciclabile con i cordoli delle piante ci sta una situazione anche di potenziale pericolo. Tra le altre cose nelle ore serali l'impianto di illuminazione non funziona e per ultimo, non certo per importanza, circa un anno fa, innanzitutto questa situazione va avanti da 4 anni, non da 4 giorni, non da 4 mesi o 4 settimane, ma va avanti da 4 anni, tra le altre cose nella parte della scarpata, nelle ore serali l'impianto dell'illuminazione in buona parte non funziona. E allora io mi domando, innanzitutto per i cittadini tarantini che ne hanno il sacrosanto diritto di poter usufruire di quella parte importantissima e centralissima di Taranto, poi per le persone che vengono da fuori, quindi quando vengono quelle poche persone che vengono da fuori, che immagine dobbiamo dare alla città di Taranto, che immagine danno gli amministratori della città di Taranto? Una immagine di degrado, un'immagine di abbandono e poi vengono, vanno fuori, ritornano nelle loro città e giudicano in maniera negativa quelle che sono le condizioni di vivibilità. Se mi consente di aggiungere una cosa, proprio con lei che è attento a quelli che sono anche alle problematiche della città, abbiamo fatto un paio d'anni fa, più o meno, un analogo intervento per quello che riguarda il lungomare, un altro lungomare, il lungomare nella città vecchia di Taranto, il lungomare di via Garibaldi, dove l'intera passeggiata era in un totale stato di degrado e di abbandono. Anche in quella passeggiata, che si trovi in uno stato di degrado e di abbandono, non è stato fatto nulla. Sono passati degli anni da quando noi abbiamo fatto l'intervento e quattro anni da quando... Un paio d'anni, credo. Un paio d'anni, più o meno, da quando noi abbiamo fatto quell'intervento, quattro anni da questa amministrazione e nulla è stato fatto. Quei rari turisti, ci si ritrova a parlare qualche volta di quelle pochissime persone che vengono con le navi da crociera, si ritrovano proprio a scendere dal porto a fare un altro passaggio, quello del gambero a Porta Napoli. Il gambero a Porta Napoli, lo vedono, viene visualizzato, un anno fa era stato fatto un altro annuncio di ripristino di quella struttura importante di proprietà comunale e nulla è stato fatto, si trova in uno stato di abbandono. Quindi cosa devono vedere quelle pochissime persone che vengono fuori? Il gambero abbandonato, il lungomare di via Garibaldi, dall'altra parte in città vecchia avevano annunciato la passeggiata a mare, questa cosa qui grande, enorme e non è stato fatto nulla, neanche la prima pietra, ma neanche la prima pietra è stata fatta. Poi andiamo nel lungomare del Borgo e ci ritroviamo in quell'altra situazione, ma solo per citarne alcune. E allora veramente la situazione nella città di Taranto deve cambiare per quello che riguarda l'organizzazione dal punto di vista politico-amministrativo. Bisogna in maniera, indistintamente dai colori politici, lavorare affinché, fare squadra affinché questo territorio possa cambiare e possa migliorare le situazioni. Aperto e chiuso a parentesi brevemente, il pontile Rota, a lungomare del Borgo, era stato annunciato un anno fa in Pompamagna, era stata annunciata la risistemazione, la riqualificazione di quella parte di Taranto. Parlavano dei marinai anticamente, quando venivano nella città di Taranto, bello il racconto, bello anche l'annuncio, ma nei fatti dopo un anno non è stato fatto nulla. Così come un anno non è stato fatto nulla per il gambero che doveva essere un museo, è museo al degrado e l'abbandono. In un caso o nell'altro, ma possiamo andare avanti in tantissime situazioni. E questo, se mi consente, se mi è consentito, non riguarda centro-destra, centro-sinistra, no, assolutamente. Esistono persone capaci, brave, bravissime in entrambi gli schieramenti. Esistono persone che non è cosa loro tantissimo, l'amministrazione della cosa pubblica, indistintamente dai colori politici. E dice sono le capacità della persona che contano. Sono le capacità che contano e noi con questa associazione, indistintamente dai colori politici, vogliamo delle persone con noi che da uno schieramento, dall'altro schieramento, amano e hanno a cuore il nostro territorio, la nostra città e vogliono dare un contributo affinché questa città possa migliorare. Ma se si deve occupare di turismo, l'ABC va fatto, non si può dare colpa ai cittadini se il gambero sta in abbandono, se il lungomare sta in abbandono, se ci sono le buche, se non c'è l'illuminazione. Non si può scaricare la colpa sui cittadini. E' chiaramente e ovviamente il compito degli amministratori che devono essere bravi a presentare una città, innanzitutto per i cittadini, i tarantini che ne pagano le tassi, hanno il sacrosanto diritto di vivere i vari spazi nelle condizioni ottimali. E' anche per le persone che vengono da fuori, perché se no poi nel momento in cui viene qualcuno, in quei pochi casi che vengono delle persone da fuori, ci sono degli autogol dal punto di vista dell'immagine, perché chi viene da fuori deve giudicare in maniera negativa, deve dire è bellissima la città, peccato che è così, come ci raccontano moltissime persone, purtroppo. Ecco, lo martire, quindi la vivibilità urbana come strumento fondamentale, indispensabile, propedeutico per il turismo, ma l'associazione politico-culturale Grande Taranto è indirizzata alla finalità di realizzare varie iniziative. Certamente, dal punto di vista politico-culturale, degli scambi culturali, manifestazioni sportive, ludiche di intrattenimento, incontri tra i popoli, tra le città e per fare sì, soprattutto, in maniera particolare, che venga valorizzato il nostro territorio, il territorio di Taranto e della sua provincia, negli scambi tra i popoli e tra le culture. Noi veramente abbiamo un territorio bellissimo, che non ha bisogno di presentazioni, però viene oscurato, è oscurato a livello nazionale, è oscurato a livello internazionale, bisogna dare la giusta, giustissima attenzione al nostro territorio e nel momento in cui si vuole dare il giusto risalto, bisogna fare sì che le iniziative, anche di attrattiva, al di là di quello che oggi è il periodo, purtroppo estremamente sfortunato del coronavirus che ha tanagliato l'Italia, il mondo e anche la nostra città, ma prima di questo periodo non era cambiato assolutamente nulla, non erano stati fatti degli eventi e non sono stati fatti degli eventi che tutti i giorni chiamavano turisti sul nostro territorio, e né tantomeno oggi che in una fase appare di leggero miglioramento. Nel momento in cui si vogliono richiamare delle persone sul nostro territorio, bisogna fare sì che ogni giorno della settimana ci debbano essere delle persone che vengono sul nostro territorio, perché c'è un calendario fitto, ma dove sta questo calendario? C'è una volta ogni tanto una manifestazione e noi dobbiamo fare sì e bisogna fare sì e gli amministratori devono fare sì che le manifestazioni debbano essere create quotidianamente per essere appetibili sul palcoscenico nazionale e internazionale. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire anche creare occupazione, creare un'alternativa. e il Padre Eterno ci ha dato anche questa cosa molto bella di avere un territorio bellissimo, bisogna solo saperlo sfruttare e valorizzare. L'occupazione che può essere data dal turismo non è neanche lontanamente immaginabile da quello che può dare la grande industria. Bisogna lavorare in maniera concreta affinché venga creata un'alternativa con le tantissime bellezze. E le tantissime bellezze e anche la direzione turistica vanno create non con le parole come hanno parlato tanto tempo, dobbiamo fare turismo, dobbiamo fare qua di là, bisogna dare la possibilità nei terreni, nelle parti libere di costruire, di realizzare villaggi turistici. Noi abbiamo bisogno di alberghi, villaggi turistici, strutture del divertimento. Nei villaggi turistici lavorano le persone, vengono assunte le persone, negli alberghi vengono assunte le persone. Quella è la grande industria che vogliamo, la grande industria del turismo che valorizza in maniera sana il nostro territorio. Ma se non si dà la possibilità di fare villaggi turistici, costruire alberghi, di realizzare strutture del divertimento, come si può immaginare di andare a intercettare un turismo? Poi si va a pochi chilometri di distanza a Monopoli, a Polignano a mare e a Compagnia Bella e si va a dire ho fatto le 4 del mattino, ho fatto le 3 del mattino, quanto c'era di intrattenimento? E qua a mezzanotte si sentono nelle vie centrali della città i grilli, le cicale, purtroppo lo dico, io vivo in una zona centralissima della città e lo dico con grande rammarico, che una città così bella deve pululare di gente, ci devono essere tantissime persone che devono vivere nelle strade, nei quartieri, perché è bella la nostra città, bisogna solo creare e saper creare degli eventi e lo dico in maniera costruttiva, propositiva, affinché la nostra amata Taranto possa migliorare con un lavoro di squadra, indistintamente dai colori politici, hanno creato e hanno voluto creare sempre nel tempo, negli anni, tra uno e l'altro, divisioni, vari movimenti, chi vuole fare l'interesse del nostro territorio deve fare squadra, ma lo deve dimostrare con i fatti, non con le parole, vengono da fuori, ne sa tanto, vengono da fuori al nostro territorio, vengono a raccontare tante belle parole, e infatti no, vengano qui con i fatti, vengano qui con le cose concrete realizzate con il nostro territorio e indistintamente dai colori politici ci saremo ben lieti di accogliere i vari politici nazionali a braccia aperte, se vengono qui con le parole è chiaro che poi ci si ritrova in una situazione non solo più che scettica, critica, perché sono tanti anni che vengono da tutte le parti, da tutti i partiti, da tutte le parti a raccontarci tante belle parole, poi non sono concreti né i fatti questi a livello nazionale, le persone a livello nazionale. Lo Martire dunque è un'associazione che nasce con la finalità di dare risposte alle persone, forse perché la politica non ha saputo darle. La politica in maniera particolare è quella centrale, quella anche che amministra spesso e volentieri e noi non facciamo un discorso di schieramenti perché le persone che hanno voluto contribuire al nostro territorio in maniera costruttiva ci sono state da entrambi gli schieramenti, centro-destra e centro-sinistra e centro-destra e centro-sinistra ci sono state persone che non hanno contribuito in maniera positiva al nostro territorio e anche a livello nazionale. Ecco, è il momento di dare risposte al nostro territorio, è il momento di comprendere dove si possono realizzare delle strutture dove i turisti vengono, le persone da fuori vengono, rimangono in pianta stabile nel nostro territorio perché se rimangono per una settimana, due settimane, tre settimane ci sono le strutture sul nostro territorio, c'è l'intrattenimento, c'è il divertimento nel nostro territorio, in quella maniera il turista rimane, entra, spende e spande sul nostro territorio, non è quello che avviene oggi raramente una visita a mordi e fuggi che non lascia denaro al nostro territorio, noi abbiamo bisogno di quelle persone che vanno nelle attività commerciali spendono in tutte le attività commerciali, le attività commerciali nel momento in cui si ritrovano innanzi a una presenza turistica mazziccia, avranno bisogno di nuove assunzioni, avranno bisogno di nuove assunzioni nei ristoranti, in tutte le categorie, nei pub, nelle varie attività di qualsiasi tipo che non solo quelle della ristorazione ma anche tra l'altro e tra le altre cose, quelle in termini di posti letto e in tutto questo bisogna essere concreti. Quando si parla ad esempio, vorrei prendere un esempio parallelo al nostro, le dune di Formentera, le dune che sono presenti nelle Baleari, il mare che è presente a Formentera dove tra le riviste più autorevoli al mondo viene catalogato come mare più bello d'Europa, noi ce l'abbiamo il mare più bello d'Europa, solo che non è valorizzato, non è detto che le dune di Formentera stanno anche a Taranto, uguali, identiche, anche più belle, solo che a Formentera ci vanno i turisti da tutte le parti del mondo, ci vanno gente che lascia tanti soldi, fa sì che vengano occupate tutte le persone lì sul territorio e vadano addirittura tante altre persone da altre parti del mondo a lavorare lì, semplicemente sfruttando il mare e le dune, solo che dopo le dune loro hanno realizzato villaggi turistici, alberghi, ristoranti, discoteche, parcheggi, tutto questo tipo di strutture che nella nostra litoranea, nell'isola amministrativa, che è bellissima, isola amministrativa del comune di Taranto, quindi in quella parte di territorio di Taranto dove abbiamo… Che arriva fino a Lizzano. Che arriva fino a Lizzano, è bellissimo il mare, sono bellissime le dune, solo che quella strada ad esempio, io me la ricordo quando la percorrevo con i miei genitori, ero piccolino, quella strada lì è sempre la stessa, non è stato modificato nulla in tantissimi anni, c'è bisogno da quella parte di programmare la realizzazione di nuove strutture, di allargare le strade, di creare dei servizi, perché se no non ci saranno mai le condizioni affinché le persone che vengono da fuori, possano essere ospitate in maniera massiccia sul nostro territorio. Lo Martire, quale appello rivolge ai cittadini per avvicinarsi all'Associazione Politico-Culturale Grande Taranto? Sicuramente la maggior parte dei cittadini tarantini amano il nostro territorio, vogliono bene alla nostra città e noi in maniera costruttiva faremo le nostre proposte, daremo le nostre idee, anche se qualche volta può essere scomodo a qualcuno raccontare la verità, la verità di una situazione di degrado, perché poi magari qualcuno non vuole fare vedere queste situazioni, ma con la forza che la maggior parte dei cittadini di Taranto sono persone che amano il nostro territorio, che hanno anche una forza di criticare le cose che non vanno, il coraggio di criticare le cose che non vanno e quindi con questa forza dei tanti tarantini che ogni giorno testimoniano quello che non va, ogni volta testimoniano e ci raccontano e mi raccontano le cose che vorrebbero che venissero cambiate, proprio con la forza di questi cittadini sicuramente saremo propositivi, costruttivi e non esiteremo neanche a denunciare e a segnalare quelle che sono le cose che non vanno sul nostro territorio. Per concludere, il nome Grande Taranto, proprio una espressione che vuole riportare Taranto a quella dimensione di grandezza che storicamente le compete. Certamente, proprio come giustamente diceva lei, Grande Taranto. Taranto è grande, nessuno l'ha mai resa grande, nessuno l'ha mai valorizzata così come dovrebbe, ma Taranto è grande, grandissima per tanti punti di vista, dal punto di vista storico, culturale, geografico, abbiamo un'importanza incredibile, purtroppo a causa di chi dirige questa città non è adeguatamente valorizzata. Allora, da una parte l'obiettivo è quello di sensibilizzare le persone che dirigono, dall'altra è quello anche di sostituire altre persone che dirigono e non vanno bene e fare sì che il nostro territorio debba avere i giusti meriti e quello che realmente, scusate la ripetizione, si merita la città di Taranto e la città di Taranto non merita invece di stare nelle condizioni in cui si trova, quando ad esempio è sotto tanti punti di vista. Posso aprire e chiudere una parentesi? A brevissimo, in contemporanea, subito dopo ci occuperemo come associazione della situazione di una famiglia che ha chiesto e chiede un cambio di alloggio, ha un alloggio in assegnazione di proprietà comunale, questa famiglia purtroppo il capofamiglia ha un problema serio di salute, ha un tumore, purtroppo la figlia è disabile e sono 4 anni che stanno chiedendo il cambio di alloggio. Quindi in difesa l'associazione, anche nel sociale diciamo, anche nel sociale di queste persone che si trovano in questa situazione, in questa situazione di difficoltà e quindi bisogna a lavorare in difesa delle tante situazioni di difficoltà da parte di tantissimi tarantini che purtroppo hanno dei problemi e bisogna lavorare per costruire, per fare sì anche che possa migliorare sia l'attenzione nei confronti di quelli che sono i problemi sociali delle varie persone che presentano delle situazioni, come dicevo prima, di difficoltà e sia per fare sì che bisogna lavorare affinché il nostro territorio debba avere quello che giustamente gli spetta. Bene, lo martiri allora in bocca al lupo con Grande Taranto. Grazie, grazie, gentilissimo.